Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti ha conferito quest'oggi nella sala consigliare del comune il sigillo della città a Nane Zavagno per l'intensa attività e per il valore riconosciuto delle sue opere. All'attività artistica di Nane Zavagno sono dedicate le mostre attualmente in corso a Pordenone nella galleria d'arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato e nelle sedi della galleria sagittaria di Palazzo Cossetti. Il sindaco di Pordenone ha evidenziato che questa cerimonia rappresenta per la cultura cittadina la conclusione di un anno straordinario e ricco di iniziative. Dare il sigillo al maestro Nane Zavagno, voi lo capite per me, è un onore. Tra l'altro l'avevo conosciuto tanti tanti anni fa quando a Spilimbergo ogni tanto organizzava dei corsi per il disegno, per il colore. Ha sempre avuto questa passione verso gli altri anche, nell'offrire agli altri la sua capacità artistica. Oggi qui la città gli ha dato un riconoscimento profondo, importante, proprio per quello che lui ha fatto in una vita per la nostra città e per il nostro territorio. Quindi è una di quelle date che dobbiamo ricordarci e il sigillo credo che sia stato l'icona e il modo migliore per sottolineare questo legame tra Pordenone e il maestro Nane Zavagno. Grazie. 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 Grazie.